Marco Sciari, bilancio di questo mondiale di sciabola, arrivate medaglie individuali, medaglie a squadre, siamo soddisfatti? Siamo soddisfatti, in confronto a Chongju 2019 abbiamo aggiunto una bellissima medaglia a squadre dei ragazzi, appena conquistata, un argento un po' amaro perché forse si poteva fare anche qualcosina in più e mettere ancora più in difficoltà l'armata cinese ma ci rifaremo sicuramente per la prossima. Due medaglie individuali confermate da Edoardo e Rossana ottenute con ancora più consapevolezza e ancora più voglia di arrivare a traguardi ancora più importanti. Belle prestazioni anche per la giovane Marcosca che entra al finale al suo primo mondiale, ottima anche della veterana Loredana Tigilia ma ottima di tutto il gruppo, sono in crescita e qualcuno è stato un po' più sfortunato ma speriamo meglio per le prossime competizioni. Bisogna lavorare ovviamente individualmente, ognuno lavorerà per crescere però c'è anche questa sorta di miraggio laggiù, cioè di lavorare per quantomeno avvicinare o magari anche riuscire a raggiungere la Cina. Sì, assolutamente in vista di Parigi con alcuni atleti specialmente abbiamo visto che il divario ormai si è un po' colmato e quindi ce la giochiamo alla pari. Speriamo in questo cammino che ci separa da qui a Parigi di addirittura superarli e quindi magari batterli anche un po' più in scioltezza. Ma la squadra ha vinto l'argento anche perché avevano la maglia con il nome del maestro Shari sopra o no? Ormai sono anni che hanno decretato questo coro, mi fa un immenso piacere, addirittura questa volta l'hanno voluto stampare, insomma arrossisco come mi vedete ora in telecamera perché è un gesto che sicuramente fa capire quanto siamo uniti come gruppo, sicuramente. Infatti il passaggio successivo era quello, cioè il gruppo lavora, il gruppo fa bene, i risultati arrivano ma mi pare che questo ambiente, questo sistema stia funzionando. Sì, assolutamente si parte dal gruppo per fare emergere l'individualità, ecco questo è un concetto che tutti noi, tutti e tre i CT e il coordinatore cerchiamo di infondere ai ragazzi e spero che si vedano i frutti di questo lavoro. Grazie, grazie Marco. Grazie a voi.